Lunedì 5 ottobre 2020, oggi si inizia una nuova settimana senza andare ad invadere altri giorni e ovviamente quando si ascolta questo podcast non si può non parlare di un solo dispositivo, l'iPad. Dopo la puntata estemporanea di una decina di giorni fa torniamo a casa nostra e iniziamo una nuova settimana parlando di iPad. Non parliamo di dispositivi che sono appena usciti, che stanno per uscire, che potenzialmente potrebbero uscire tra novembre e marzo, ma parliamo di qualcosa di concreto perché in realtà volevo iniziare la seconda parte di stagione con questa puntata e spero che poi Apple i prossimi anni faccia la brava, faccia ovviamente quella azienda che ciclicamente farà le stesse cose anno dopo anno. Alla fine anche il succo della puntata di iPad Pro 2020 Mark II diciamo così, però finalmente oggi parliamo di iPadOS. Parliamo di iPadOS perché finalmente lo ho provato anch'io, era una cosa che non avevo fatto, non provo beta, l'iPad soprattutto essendo il mio dispositivo principale, quello che uso più o meno tre volte in più dell'iPhone, quello che uso forse cinque volte in più del Mac, per cui anche se le beta erano stabili, anche se tanti mi parlavano molto molto bene di questa versione di iOS per iPad, perché io mi rifiuto di chiamarlo iPadOS, almeno la versione 14, ma di qui a breve iniziamo a parlarne, io fino al 16 di, anzi in realtà fino al 17 di settembre ho continuato ad utilizzare iOS 13, iPadOS 13. La prima versione, una versione che onestamente mi aveva nutrito tante belle sensazioni perché comunque, ecco, se Apple rilascia un aggiornamento che poi internamente è sempre chiamato iOS 14, ma in questo caso si chiama iPadOS 14, o meglio la versione 13, mi aveva fatto pensare che essendo lo stesso sistema operativo con ovviamente un occhio di riguardo per iPad, ogni anno Apple avrebbe potuto in qualche modo andare ad arricchire la versione per iPhone con qualche chicca in più, che è quello che ad esempio ha fatto lo scorso anno, io mi ricordo Craig Federighi quando nel 2019 presentò iPadOS 13, comunque aveva enfatizzato tanto questa cosa, in realtà quello che ha fatto quest'anno Apple è portare un iOS 14 con semplicemente due o tre novità che va bene, servono, però in ogni caso non è quel sistema operativo completo che ogni anno io mi aspetto di avere da Apple, soprattutto perché quest'anno in cui Apple ha incentivato tantissimo l'occhio per quanto riguarda i design, quindi ad esempio una nuova home screen, ne ho parlato anche in Uetech, vi lascio il link nelle note dell'episodio per la puntata di un paio di settimane fa in cui abbiamo parlato ovviamente anche del redesign della home screen, e in quel caso App Library da una parte e i widget dall'altra fanno molto nel colpo d'occhio che una persona dà a quello che poi è la schermata home del proprio iPhone, io non parlo di quei pazzi criminali che vanno con Widgetsmith, con i vari shortcut a personalizzare le icone come fossero un tema di Android, per la personalizzazione così profonda c'è un altro sistema operativo, si chiama Android e quindi se volete andate nell'altra piattaforma e li potete fare tutto, io è una cosa che onestamente non apprezzo, però diciamo che comunque i widget li utilizzo anch'io, App Library è la novità che più adoro, alcune persone hanno parlato meno bene di App Library perché è confusionaria, perché comunque Apple fa la Apple della situazione, per cui mi impone delle cose, però onestamente io su iPhone ho apprezzato tantissimo questa novità, addirittura Apple si permette di fare iPadOS con qualche novità in meno rispetto alla versione per iOS. Ci ho fatto una puntata, si chiama Dov'è App Library su iPad, ve la lascio linkata nell'episodio, la trovate sul feed, la trovate ovunque, ed è sostanzialmente la domanda che mi vado a porre anche oggi, soprattutto perché Apple, dal canto suo, su iPhone e su iPad ha fatto un paio di scelte molto interessanti, perché da una parte abbiamo la possibilità di andare a richiamare i widget dalla barra laterale con l'iPad in verticale, e se si vanno a richiamare i widget in qualche modo su iPhone e su iPad, con la schermata dei widget a parte, non quelli messi in home, la transizione è la stessa. Apple quindi avrebbe potuto fare la stessa cosa dall'altra parte per quanto riguarda appunto App Library. Oppure, visto che ancora oggi una novità che io mi aspetto tantissimo, quindi la possibilità di andare a richiamare slide over sulla home screen, non me lo permetti perché comunque è un qualcosa che ad oggi bisogna fare per forza all'interno di un'applicazione, quindi io sulla home screen quel gesto non lo posso sfruttare, sia sul trackpad, con la magic keyboard, che ovviamente sul touchscreen dello stesso iPad. Quindi dammi per favore cara Apple la possibilità, con una sola gesture, di andare a richiamare se sono in una qualsiasi applicazione slide over, se in realtà sono nella home screen, App Library, perché così facendo mi fai un favore, ma soprattutto fai una cosa che onestamente ho sempre apprezzato da tempo su tutti i miei dispositivi, ovvero la continuità tra iPhone, iPad e anche i Mac. Perché comunque, se poi andremo a vedere quando uscirà Big Sur, magari ci farò un approfondimento anche qui su iPad Guy, sicuramente ne parlerò su The Tech, e poi in caso vi richiamerò la puntata quando sarà anche su questo podcast, con Big Sur addirittura Apple prende e in qualche modo replica il design dell'iPad. In questo caso i widget sono dall'altra parte, perché comunque abbiamo la colonna sulla sinistra per quanto riguarda iPad, sulla destra per quanto riguarda il Mac, ma in ogni caso Apple mi porta comunque quella che poi è la vera e propria unione dei sistemi operativi. Quindi abbiamo visto tutti il design, ne ho già parlato in passato, e quindi quali sono le mie sensazioni per quanto riguarda questo iPadOS? Perché poi le novità ci sono, c'è Scribble, quindi c'è la possibilità di utilizzare l'Apple Pencil molto approfonditamente, non ancora per lingua italiana, speriamo possa arrivare in futuro, c'è la ricerca universale, ritornando a quello che dicevo qualche minuto fa, è praticamente Spotlight su iPad, e quindi con la solita combinazione command spazio sulla Magic Keyboard ho praticamente una ricerca universale in tutto il sistema operativo. Ho il nuovo design per quanto riguarda alcune applicazioni, c'è musica, c'è foto, poi ovviamente ha un design che tante applicazioni stanno riprendendo, ad esempio l'aggiornamento della scorsa settimana di Pixelmator porta lo stesso design, però mi chiedo, perché ad esempio un'applicazione come Podcast non mi porti il nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'iPad? Cioè, è un qualcosa che Apple ha lasciato a metà, una cosa che onestamente non ho apprezzato tantissimo, perché poi è vero, mi porta il design compatto per Siri e mi va bene, però è una novità che c'è anche su iPhone. Stessa cosa con la novità per quanto riguarda il pop-up delle chiamate e non il full screen. È una cosa che anche Apple commercialmente ha presentato come novità di iPadOS e poi ha detto, ops, c'è anche su iPhone. E quindi, in qualche modo, quali sono le novità specifiche per iPadOS? In qualche modo, la domanda si pone e la risposta può essere o dovremo aspettare ancora un altro anno, per cui fino a settembre del 2021, con questo ibrido tra un sistema operativo per computer, perché comunque, in sostanza, la direzione di iPadOS, per alcuni versi, sta andando da quel punto di vista. Se noi prendiamo, ad esempio, appunto, foto, se andiamo, ad esempio, musica, la barra laterale è la stessa barra che già adesso, con Catalina, troviamo su musica. Messa graficamente in modo più accattivante, con comunque i vari selettori, la possibilità di selezionare il testo un pochino più ampia per andare poi ad utilizzare anche uno schermo touchscreen, però, in sostanza, quella è la direzione, secondo me. La cosa importante, e che spero Apple possa fare, innanzitutto, è utilizzare anche gli step intermedi. Abbiamo i vari iPadOS che usciranno di qui a settembre del 2021. Abbiamo, ovviamente, già iPadOS 14.2 in beta. Però la domanda che mi faccio è, io mi posso aspettare un qualcosa di più completo anno su anno? Perché a questo punto, iPadOS, per quanto riguarda la versione 14, è un grandissimo buco nell'acqua. Perché a questo punto, Apple avrebbe potuto fare semplicemente una cosa. Avrebbe potuto continuare a richiamare entrambe le versioni a iOS. Ripeto, in casa Apple è sempre la stessa. Le versioni sono sempre le stesse, non è una versione come quella sul Mac, come quella su Apple Watch. La numerazione continua parallelamente tra le due versioni, perché commercialmente sono due sistemi operativi diversi. Quindi, poi, in realtà, è lo stesso. Quindi, non sarebbe stato meglio avere iPadOS ancora racchiuso come nome in iOS. Quindi, iOS per iPad sarebbe una cosa più efficiente. Perché poi, in sostanza, è quella la questione. iPadOS è iOS per iPad. Però, in ogni caso, c'è un discostamento in quella che poi è la linea che Apple voleva prendere. Perché, ripeto, vedere Podcast, che è una delle applicazioni che utilizzo di più sull'iPad, basta aprire Podcast su Mac per capire come Apple poteva fare. Gli ingegneri di Apple, ma soprattutto i designer di Apple, ci mettono, forse, un paio d'ore, una giornata di lavoro per rendere uguale anche l'applicazione per i podcast, che poi mi va, in qualche modo, a replicarsi su tutto il discorso di iPadOS. Quindi, io ho il colpo d'occhio con le schede in basso su iPhone e ho la stessa cosa con, in realtà, le schede a sinistra su iPad. Sarebbe, secondo me, una cosa molto più apprezzabile da parte dell'utente. Perché, in questo modo, Apple dà l'idea di un sistema operativo coeso. E la coesione e, veramente, il parallelismo tra le varie applicazioni è un qualcosa che non c'è. Ed è un qualcosa che, onestamente, a me manca parecchio. Perché, comunque, da utilizzatore, soprattutto di iPad, è il dispositivo che utilizzo veramente per la maggior parte del mio tempo. Se io non avessi l'iPhone, in qualche occasione, magari, rimarrei spaesato. Però, se mi manca l'iPad, e ricordatevi che, un paio di anni fa, ancora, all'inizio di ottobre, io ero senza iPad. Sono stato, praticamente, 100 giorni senza iPad. E, veramente, mi sentivo abbastanza depresso. Poi, ovviamente, ho avuto la grande sorpresa. iPadOS, scusate, iPad Pro 2020. Però, in un modo o nell'altro, mi sarebbe potuto, in qualche modo, andare a genio anche un iPad mini. Quindi, io, senza iPad, non ce la posso fare. E, soprattutto, quindi, ho veramente l'occhio attento per queste cose. Quello che mi sono posto, andando a fare un piccolo richiamino alla scorsa puntata, è il discorso legato, quindi, a quello che è il vero significato di iPad Pro. Perché, a questo punto, iPadOS Pro potrebbe essere qualcosa di concreto. Quindi, un sistema operativo che, in qualche modo, mi va quasi ad unificare il Mac con l'iPad. Con, come dicevamo nella puntata straordinaria, le dovute differenze. Quindi, la possibilità di non avere le applicazioni in finestra, ma avere le applicazioni fullscreen. Con, magari, la possibilità di poter utilizzare solamente il mouse e la tastiera per determinate applicazioni. Oppure, dare la possibilità agli sviluppatori di andare a preferire solamente un ipotetico iPad Pro 2020 Mark II, e chiamiamolo così, con 8 GB di RAM, con, quindi, il processore decisamente più potente, la 14X. Andando così a rendere una macchina Pro e, finalmente, a diversificare il sistema operativo e andare a completare un qualcosa che Apple, ovviamente, non ci dice, ma quello che, probabilmente, non ci ha ancora detto per quanto riguarda l'iPhone 12, per quanto riguarda l'iPad Pro del 2020, anche quello che è uscito durante il mese di marzo, io mi aspetto, ad esempio, la possibilità di utilizzare il sensore LiDAR. Perché, se no, ha senso solamente per la realtà aumentata? Cioè, ragazzi, abbiamo la possibilità di avere un bel sensore per quanto riguarda la profondità, è vero, non abbiamo, magari, molta voglia di uscire e fare le foto in portrait con la fotocamera. Però, ad esempio, il sensore LiDAR applicato alla fotocamera potrebbe essere buono per fare le scansioni in modo dettagliato, perché in qualche modo capisce le dimensioni del foglio, capisce in qualche modo la profondità e quindi, in ogni caso, mi va ancora meglio ad applicare poi tutta l'intelligenza artificiale che mi ritaglia il foglio e sapete tutte le cose che fa benissimo Apple con tutto il discorso delle scansioni. Quindi, un sistema operativo che non promuovo, cioè, mi lascia abbastanza perplesso. Poi sì, le varie figatine ci sono, la possibilità di andare ad utilizzare l'iPad con Siri in pop-up, cioè, a lato, è carina. La possibilità di avere il picture in picture, che finalmente è dimensionabile con il doppio tappe, è una cosa che onestamente mi piace anche lì. Poi, ovviamente, Apple ha voluto replicare tutto anche su iPhone, però il picture in picture è una cosa che ho già visto su iPad, credo, da iOS 9. Quindi, comunque, è un qualcosa che l'azienda porta avanti già da diverso tempo. Quello che veramente mi chiedo è capire la direzione in cui Apple vuole andare, perché, andando poi a ripercorrere la storia, abbiamo alti e bassi, perché, comunque, abbiamo iOS 9, iOS 11, iPadOS 13, e quindi sarà iPadOS 15. Le novità di iPadOS 15? Ci saranno i widget ovunque nella schermata e Apple Library su iPad? Cioè, spero di no, perché a questo punto cosa devo fare? Ogni due anni arrivano le novità per iPhone e poi l'anno successivo mi arrivano sull'iPad? No! Ragazzi, è un qualcosa che Apple non può fare, perché avremo... Cioè, è il discorso che facevo con i processori. Cioè, io spero che Apple rilascia a breve un altro iPad Pro, in modo che poi ogni anno faccia la copia del processore, con, ovviamente, più core, quindi, per esempio, la 14X, la versione octa-core, del processore hexa-core, che avremo montato, ovviamente, sull'iPad Air e anche sugli iPhone, sugli iPhone 12, e, in qualche modo, sarà la copia potenziata. Quello che fa con i processori, quello che, per esempio, ha fatto nel 2018 con il processore, è la stessa identica cosa che l'azienda deve fare anche con il sistema operativo. Né più né meno. Poi, se vuole prendere un qualcosa da Mac, così come, ad esempio, ha fatto con Spotlight, che, ovviamente, spero arrivi nella stessa versione anche su iPhone, se, magari, avremo, per esempio, l'ad-hoc, che, ovviamente, l'ad-hoc, che abbiamo su Big Sur, è presa dall'iPad. In questo caso, magari potrebbe prendere qualcosa di diverso, tipo il blocchettino esterno, per quanto riguarda l'applicazione in continuity, o in hands-off, che, quindi, mi va quasi a replicare lo stesso design che avrò su Mac. Cioè, i vari sistemi operativi si possono, in qualche modo, rosicchiare le cose, però un sistema operativo non mi può essere, in qualche modo, spezzettato, quindi avremo la possibilità di richiamare alcune funzioni su iPhone, ma non su iPad, ma, soprattutto, la cosa che veramente non mi è andata giù è vedere il design diverso tra più applicazioni da parte del sistema, cioè, dello sviluppatore del sistema operativo, in due versioni nettamente contrapposte, è qualcosa che non ho apprezzato. Per cui, vedremo, cioè, il sistema operativo si valuta anno su anno, quindi, vedremo, ovviamente, quello che succederà alla WWDC 2021, e, soprattutto, vedremo se, di qui a 2021, magari, Apple ci farà il regalo di darci, ad esempio, App Library su iPad per, non so, avere una cosa in più, semplicemente attivabile o disattivabile, e mi fa la stessa cosa anche su iPhone. È così difficile, cara Apple? Non lo so. Quello che però so è che questo podcast torna tra due settimane con un'altra puntata per parlare di iPadOS e, ovviamente, anche del tablet in sé e per sé, e, ovviamente, in tutto questo c'è anche io e te. Mercoledì, alle 17. Ciao. This episode has been produced with Pot Cleaner Discover more at Pot Cleaner.com Post Cleaner mitono Grazie a tutti